Il presidente russo Vladimir Putin spiega che Kiev ha rinunciato e negoziati con Mosca altrimenti sarebbe tutto finito tempo fa e sulla formula di pace proposta da Volodymyr Zelensky accusa che è piena di requisiti proibitivi. Dal forum economico mondiale di Davos Ursula von der Leyen sostiene che la Russia ha fallito perché non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici e che l'Ucraina può vincere. Una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da un missile a largo dello Yemen. Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambri. L'esercito israeliano intanto ha reso noto ad avere compiuto un attacco contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. È stato uno dei maggiori attacchi condotti dall'inizio della guerra. Una cinquantina di Razzi sono stati sparati poi oggi dal nord della striscia di Gaza in direzione della cittadina israeliana di Nettivo. Danni ma nessuna vittima. I carabinieri indagano per risalire l'identità del computer o dello smartphone dal quale è partita la recensione online di un cliente della pizzeria Levignole di Sant'Angelo Lodigiano che si sarebbe lamentato per avere mangiato nel locale con a fianco due gay e un ragazzo disabile. La titolare della pizzeria, Giovanna Pedretti, 59 anni, trovata poi morta nel fiume Lambro, aveva risposto a quella recensione ed era stata accusata sui social di aver inventato tutto solo per farsi pubblicità. Tra le principali accusatrici la blogger Selvaggia Lucarelli con i compagni, lo chef Lorenzo Biaggiarelli. Ora hanno ricevuto insulti e minacce di morte e hanno pubblicato tutto online. La procura di Lodi intanto procede per istigazione al suicidio. Blitz antidroga della polizia a Napoli. Dalle prime luci dell'alba gli uomini della mobile hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Nelle stesse ore un altro blitz contro il narcotraffico internazionale dei carabinieri e della DDA di Napoli ha permesso di sgominare due associazioni delinquere che importavano droga dall'Olanda e dalla Spagna per le piazze di spaccio più fiorenti del napoletano, tra cui quella del Parco Verde di Caivano. Complessivamente sono state eseguite 29 misure cautelari. La crisi climatica potrebbe causare 14 milioni e mezzo di morti entro il 2050. Lo sostiene un'analisi del World Economic Forum in corso a Davos, secondo cui i disastri naturali, aggravati dal clima, potrebbero portare anche a perdite economiche per 12,5 trilioni di dollari. Sono inoltre segnalati i costi aggiuntivi per il sistema sanitario, pari a oltre 1000 milioni di dollari. Il report aggiunge che la crisi climatica aggraverà le disuguaglianze sanitarie globali, lasciando i più vulnerabili maggiormente a rischio. La corsa alla Casa Bianca, l'ex presidente Donald Trump, si dice rimigurito, onorato dopo la vittoria in Iowa, dichiarata da alcuni media in base alle proiezioni. Mi sento molto bene e sono onorato da un annuncio di vittoria così anticipato, ha sottolineato. Dobbiamo riprenderci il nostro paese, ha aggiunto. Questo è il momento per il nostro paese di tornare unito. Che siate repubblicani e democratici, è il momento di stare insieme e risolvere i problemi. Alla Roma, via Murigno, arriva Daniele De Rossi. Sotto sciocchi tifosi. Che la situazione fosse seria, visto anche l'arrivo di Dan Fredkin a Roma oggi, era chiaro, ma che lo Special One fosse esonerato così di colpo era difficile da prevedere. Il nuovo allenatore della Roma è l'ex capitano Daniele De Rossi. Oggi pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato stamane al Teatro Civico di Vercelli, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Piemonte Orientale. Penso, ha detto Mattarella nel suo intervento, che le nuove generazioni siano motivo di speranza per il paese, ma attenzione al loro disorientamento. E sono anche convinto che il disorientamento che realmente dal volto affiora sia responsabilità di noi adulti. Come potrebbero gli studenti, come potrebbero sentirsi a loro agio, trovare parametri di riferimento, coordinate di comportamento nel mondo che oggi gli adulti presentano loro in questo periodo. E allora qui, credo, in questo momento storico, ritorna con grande forza e va richiamato il ruolo delle università, della formazione culturale. Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsioni per la giornata di mercoledì, quando una perturbazione dall'Oceano Atlantico raggiungerà tutta l'Europa occidentale. Giornata quindi di maltempo per Francia, Spagna, Portogallo, ma il tempo che raggiungerà entro il pomeriggio anche tutto il centro nord Italia. Nel dettaglio quindi possiamo osservare una giornata di precipitazioni in arrivo entro il pomeriggio per il centro nord Italia, dapprima il lato tirrenico, poi anche tutto il nord-est e le nevicate che inizieranno a scendere entro il pomeriggio su Alpi e Prealpi, inizialmente anche a quote collinari. Nel dettaglio quindi la situazione sull'Italia, una giornata che vedrà tante nuvole sul centro nord Italia, Sardegna, Campania con piogge in arrivo, nevicate a quote molto basse al nord-ovest. Inizialmente oltre i 300-400 metri di quota, tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Grazie.